Evidentemente è una sentenza che restituisce chiarezza, prima di tutto, nei confronti dei lavoratori, lavoratori che già nelle scorse buste paga hanno visto i risultati di un'azione di valorizzazione che è stata messa in campo da questa amministrazione. Abbiamo portato a compimento le progressioni economiche orizzontali per il 2018, siamo pronti con il bando del 2019 e del 2021 attendevamo semplicemente questa sentenza, una sentenza che in maniera molto chiara restituisce un quadro nel quale l'amministrazione comunale ha operato in maniera assolutamente legittima nel rispetto degli accordi sindacali, nel rispetto dei lavoratori. Abbiamo stanziato più di 100 mila euro in un triennio per la valorizzazione del personale perché crediamo che un servizio pubblico efficiente passi innanzitutto dalla valorizzazione del capitale umano, delle risorse umane che lavorano all'interno dell'ente. Dopodiché certamente c'è una dimensione personale per quello che riguarda il mio percorso perché appunto un'accusa di condotta antisindacale per chi viene dal mio percorso non poteva passare inosservata. Oggi in qualche modo viene restituita piena legittimità anche al mio operato personale che è anche l'operato di un'intera giunta che ha condiviso con me tutto questo percorso. Quindi li ringrazio per la vicinanza dimostrata e per aver lavorato con me nell'interesse unico e esclusivo di tutela dei lavoratori. Si aspetta che si vada in Cassazione? Questa è una decisione che dovranno assumere le altre parti. È evidente però che questo procedimento era partito con un fronte sindacale di altro tipo, un fronte sindacale che si era già ridotto. Ad oggi davanti ad un parere della Corte dei Conti, un parere del MEF richiamato in sentenza, davanti a una sentenza di primo grado, una sentenza di secondo grado, qualora si dovesse ricorrere alla Cassazione dopo due sentenze sfavorevoli credo che saremmo davanti ad un processo politico e non un processo sindacale e quindi ognuno di noi potrà fare le sue valutazioni. Sono i dipendenti che escono vincitori da questa sentenza, tutti, sulla base del principio di pari opportunità di tutti all'accesso alle progressioni che abbiamo ripristinato dopo tanti anni. Le abbiamo già pagate quelle 2018 e nonostante il ricorso siamo andati avanti a preparare le progressioni 2019 che dopo l'emanazione di questa sentenza possiamo procedere a pubblicare. Segno di un operato che mai è stato antisindacale, lo ha detto il giudice, ma è così, non c'è mai stato alcun tipo di conflittualità. Abbiamo aperto una nuova stagione nei rapporti sindacali, nuova stagione che ha trovato poi consacrazione in questa sentenza netta come quella di primo grado, ecco perché è assolutamente auspicabile se non necessario, proprio per non andare contro gli interessi dei dipendenti, che si eviti ulteriore accanimento, quindi si prenda atto serenamente, con serenità, perché non bisogna essere, diciamo così, non bisogna esprimere toni trionfalistici o altro, non è questo il punto. Con serenità prendere atto di una sentenza chiara, evitare accanimenti contro i dipendenti.